più si entra nel merito del perché la DXN sta da 30 anni producendo e distribuendo prodotti naturali in tutto il mondo, vi sarà sicuramente di aiuto a capire perché voi anche lo state facendo. Quindi veramente come ho detto in precedenza è un privilegio introdurre Roberto Lamberti, chiedo Roberto appunto di attivare la webcam, di andare in condivisione. Ciao Roberto. Buonasera a tutti, ciao Giuseppe. Buonasera a tutti, come ha anticipato Giuseppe, sono Roberto Lamberti, sono in DXN da quattro anni, questa sera vedremo assieme la cultura della DXN. Allora, la cultura della DXN consiste, diventa un ambasciatore della DXN, tu sei la DXN, la DXN sei tu. Scusa Robby, non sei andato in condivisione però. Oh, parto, scusate. Allora, condividi schermo. Perdonatemi eh. Sì, sì, vai tranquillo Roberto, tanto non c'è fretta. Dovresti trovare sempre quella finestra che ti si apre quando vai in condivisione? Sì, il problema è che non vedo... La presentazione? Eh, no, non vedo la finestra quella lì. Allora, partecipanti, chat, condividi schermo. Ah, eccola qui, scusate, eccola qui. Ok. Visibile. Perfetto, ci sei. Grazie. Scusatemi, scusatemi, il bello della diretta è questo. Esatto. Anche questo fa parte della cultura DXN, quindi risolvere sempre qualunque problema. Esatto. Questa sera, come stavo dicendo, a parte il piccolo inconveniente, vedremo quella che è la cultura della DXN. L'oggetto è... diventa un ambasciatore DXN. Tu sei la DXN, la DXN sei tu. Il tuo impegno è duplicare la cultura della DXN, che poi è anche la chiave per diventare milionario. Vediamo in che modo. La cultura della DXN si basa, come abbiamo detto, è costituita da valori fondamentali dei principi del credo, della filosofia e dei concetti della DXN. È fondata sulla passione del fondatore e presidente dottor Lim e costituisce le fondamenta della colonna portante della DXN. La mission della DXN è promuovere la salute, il benessere e la felicità. La salute, a mio avviso, dovrebbe essere alla portata di tutti e accessibile a tutti, quindi per sempre. Il benessere economico cos'è? È il mezzo che ci permette di realizzare i nostri sogni. Anche il benessere economico dovrebbe durare per sempre. Secondo me, l'ultimo punto è quello più importante, ragione per cui gli altri tre non ci sarebbero se non ci fosse questo. Ossia, la felicità deve essere condivisa con coloro che ti circondano. Difatti, non a caso, qui potete vedere una bellissima famiglia con marito, moglie e figli. È stato stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OMS, circa le dimensioni del mercato globale dei prodotti a base di erbe. 80 miliardi di dollari nel 2000, 200 miliardi di dollari nel 2008 e 50 trilioni di dollari nel 2050. Quindi, come potete ben vedere, le cifre sono notevolmente esponenziali e in crescita. La filosofia della DXN. La filosofia della DXN si basa su tre principi, che sono Ecaminda, tenacità, Ecanaga, One Dragon, difatti, come voi sapete, l'azienda coltiva, produce e distribuisce in tutto il mondo, e Ecapazar, One World, One Market. Partiamo dal primo punto. Resta focalizzato. Questa, da buon sportivo, secondo me è una bellissima foto, in quanto personalmente mi trasmette non poche sensazioni. me ne cito qualcuna, che mi trasmette proprio così, solamente guardandola, è concentrazione, potenza ed energia, in quanto, come potete ben vedere, il rugby è uno sport, a mio avviso, che ho praticato anche in età un po' più giovane, diciamo, e trasmette molti valori e molte sensazioni. Difatti, come potete vedere, il giocatore è letteralmente proiettato in avanti e non si cura minimamente del fatto degli avversari che cercano di placcarlo. Il suo obiettivo è ben chiaro e ben preciso, come potete ben vedere, di portare la parla in meta e quindi far segnare alla propria squadra il punto. Quello che vogliamo trasmettere, appunto, con questa foto, la DXN è proprio questo, quindi non guardarsi né a sinistra né a destra, ma rimanere focalizzato sui propri obiettivi, sui propri sogni da realizzare. Quindi quello che il campo e l'obiettivo del giocatore di rugby è arrivare alla meta avversaria per fare il punto, diciamo, dandolo alla propria squadra. Il nostro obiettivo è quello, quindi, di diventare dei leader di successo, quindi raggiungere e realizzare i nostri sogni, quindi trasformarli in realtà. In quanto con la DXN, rimanendo concentrati per un lungo periodo, possiamo raggiungere tutti i nostri sogni. Personalmente vi posso garantire che ne ho parecchi e mano a mano, grazie alla DXN li sto realizzando. In DXN abbiamo trovato il nostro tesoro, in quanto il suo piano marketing permette a ognuno di noi di realizzare i propri sogni, e quindi rendere, trasformare i propri sogni in obiettivi e quindi in realtà. Questi sono invece i stabilimenti della DXN. Inizialmente troviamo quello della Malesia, il primo che è nato. Poi successivamente troviamo quello in Cina, Ningxia. In India, a Ederabad e a Dubai. Come abbiamo detto più volte, l'azienda, come voi ben sapete, l'azienda produce, coltiva, scusate, coltiva, produce e distribuisce in tutto il globo. Questa infatti è una degna rappresentazione di quanto vi ho appena detto, quanto chi aderisce ai nostri collaboratori di DXN hanno la possibilità di aprire un mercato in tutto il globo terrestre. Quindi questo fa, trasmette come messaggio il fatto che non ci sono limiti su quello che è il nostro business. Vi posso leggere alcuni dei paesi, potete leggere anche voi, Australia, Bangladesh, Bolivia, Bulgaria, Canada. Ce ne sono tantissimi, Thailandia, Stati Uniti, Yemen. Quindi questo sta a indicare che non ci sono limiti nel nostro business. Quindi possiamo estendere in tutto il globo terrestre, come voi l'avete ben visto. Andiamo adesso a vedere la mission 3 in 1 della DXN, ossia distributore, serie DXN e management. Ovviamente, come in tutti i progetti, bisogna partire dalle basi. Quindi per costruire qualunque cosa bisogna costruire, quindi una casa, ad esempio, ha bisogno di solide fondamenta, qualunque sia la sua dimensione, piccola, media o di grandi dimensioni. Come dice giustamente il nostro buon Giuseppe in tanti webinar, sognare è sempre in grande. Un esempio che cita spesso, anzi direi sempre, punta le stelle al massimo, arrivi alla luna. E questo è un esempio molto calzante in cui mi ci rispecchio, devo dire la verità. Inoltre, per realizzare i propri sogni, bisogna lavorarci sodo. Io aggiungerei qui quotidianamente, in quanto lavorandoci quotidianamente ci si permette, questo dà vita ai nostri sogni, in modo tale da poterli raggiungere giorno per giorno, quotidianamente. Un punto molto importante, secondo me, è credere nel potere nel network, perché il network fornisce molto potenza, in quanto si permette di lavorare in squadra, un notevole gioco di squadra. Come avete visto, ad esempio, lo possiamo collegare al gioco del rugby, in quanto c'è una rete di collaboratori, quindi ci si dà supporto l'uno con l'altro. Un altro elemento molto importante da considerare nel network, non comprare mai le qualifiche, perché è un'azione controproducente, è assolutamente inutile, perché si rischia di creare dei danni alla rete, soprattutto perdere di credibilità e anche creare, come abbiamo detto, anche delle azioni inutili, o comunque dei danni, direi, irreparabili. Il diventare milionari è solo una questione di numeri, certo, perché abbiamo detto che la mission principale della DXN è promuovere salute e benessere e felicità, quindi il diventare milionario è solamente un piano secondario, quindi è una questione di numeri. Fai i passi giusti, quindi come dicevamo prima, non spendere più di quello che guadagni, di conseguenza quindi non ti indebitare, non fare magazzino e soprattutto non fare indebitare la tua rete, come dicevamo in precedenza, per evitare azioni negativo, o comunque creare dei boomerang, perché questi boomerang quando tornano, a mio avviso, tornano con gli interessi e fanno male, perché comunque si creano delle azioni, dei processi, dei danni irreparabili, comunque assolutamente inutili, a mio avviso. Non sprecare soldi, non sprecare tempo e assicurati di guadagnare più che puoi. Questo è vero anche, sono concetti molto importanti da utilizzare quotidianamente nella nostra attività. Diventa il migliore con l'atteggiamento positivo. Questo è una delle slide che a me piace tanto assieme a quella che avete visto prima del rugby, in quanto fornisce molti spunti e caratteristiche per quanto riguarda sia la vita e anche lo sport. Personalmente, come vi ha accennato Giuseppe, io pratico sport. Mi è capitato di conoscere in palestra un ragazzo che pratica degli alpinismo e mi racconta spesso, magari tra un allenamento e l'altro, quando si trova davanti a delle pareti molto difficili, ogni parete è diversa l'una dall'altra, mi ha raccontato che ogni volta che lui deve scalare una montagna o comunque una parete, parte sempre dalla cima. Dalla cima ed effettua il percorso al contrario, ossia si crea, diciamo, il percorso, il tragitto al contrario, partendo dalla cima di modo tale da arrivare alla base, quindi tracciare tutto ciò, il tragitto che gli serve per poter raggiungere la vetta. Ovviamente avrà bisogno, essendo una parete, avrà bisogno di alcuni moschettoni o comunque parecchi moschettoni che sono strumenti molto importanti per poter aggirare eventuali ostacoli o pareti lisce o da non poter scalare, quindi dovrà raggirare all'ostacolo o prendere altre vie. Ma la cosa più bella che mi piace è questa corda che vedete in basso e sta a indicare che non è solo a effettuare questa attività, ma ha una serie di collaboratori, amici che lo supportano, quindi che danno una mano. Quindi il messaggio che vuole trasmettere questa immagine, la DXN, e anche io diciamo come sportivo, è questa, quindi vedere come i problemi, come delle sfide, quindi perché le sfide e i problemi tra virgolette ci aiutano a migliorarci, a crescere e la crescita fa sì che si diventa dei leader nel settore, quindi acquisendo importanza. Ovviamente c'è da dire che più grandi sono le nostre sfide, più grandi saranno i nostri risultati e vi posso garantire che quando si raggiungono dei risultati molto grandi dopo aver superato grandi sfide e lì poi diventate veramente non grandi, diventate dei giganti perché ovviamente avete più consapevolezza, abbiamo più consapevolezza e più forza nel superare gli ostacoli. La cultura della DXN è proprio questa, quindi non conosce limiti o quindi non crearsi limiti e superare gli ostacoli nel migliore dei modi. Il nostro sistema è pensato per avere successo. Il sistema si basa su due elementi chiave che sono la formazione, imparando dai training della DXN e dalle abitudini. Su questo vorrei stendere un paio di, solamente alcune parole, diciamo, perché personalmente io effetto questa attività da quattro anni e mi sono reso conto che l'attività di network è un'attività molto di crescita personale e personalmente sto effettuando un corso di formazione che mi aiuta a questo punto sia nell'attività e anche nella vita, perché no? Quindi consiglio molto a tutti coloro che si approcciano a questa attività o comunque decidono di far parte di questa attività di investire molto sulla formazione perché serve a prescindere. Ho imparato che imparare non è un momento della vita ma è un momento della giornata in quanto ogni giorno nelle nostre 24 ore si ha sempre qualcosa da imparare che può essere nella vita o anche nella nostra attività a prescindere. Oltre a questo abbiamo anche le abitudini che praticando, ad esempio, a me è capitato con lo sport si possono smussare o comunque cambiare le proprie abitudini che possono essere abitudini comportamentali, alimentari o anche addirittura sportive. Praticando lo sport, ad esempio, ho capito che alcune abitudini, cattive abitudini che avevo mano a mano sono riuscito a cambiarle e quindi a progredire. Quindi questi, secondo me, sono due elementi molto fondamentali da considerare. La Dixen, come abbiamo detto, è una miniera d'oro in quanto il piano marketing è strutturato in modo tale da poter permettere a ognuno di noi di poter raggiungere il proprio successo. Però, come abbiamo detto e diciamo spesso, sempre, bisogna lavorare quotidianamente. I pilastri della Dixen, come tutti noi sappiamo, sono stabilità dell'azienda in quanto è presente sul mercato da moltissimi anni, superiorità dei nostri prodotti, il piano marketing e come abbiamo visto in precedenza, il network è globale, quindi si stende su tutto il pianeta terrestre. Inoltre, in Dixen bisogna impegnarsi a fare questa attività sempre, quindi non bisogna vedere questa attività come un lavoro part-time o full-time, ma farlo sempre. Io direi di 24 hours, perché in qualunque momento della giornata, quando si va, che ne so, in palestra, piuttosto che a una scuola di ballo o a fare la spesa, supermercato. Ad esempio, mi è capitato una volta durante un webinar tratto appunto dal buon Giuseppe, il quale faceva un esempio citando proprio queste parole. Se vi capita di essere in coda al supermercato e di avere due code, una più corta e una più lunga, voi scegliete quella più lunga di modo tale da poter parlare dell'attività o comunque di Dixen con più persone e quindi di avere più contatti. Io vi dico la verità, incuriosito da questo, mi si è accesa una lampadina e ho detto proviamo, vediamo un po'. Mi è cavitato, l'ho sperimentato e effettivamente, anzi lo ringrazio a questo punto, ho avuto alcuni contatti quindi aveva ragione. Quindi, quello che voglio trasmettere anche questo è l'essere curiosi, quindi non perdere mai lo spirito, la voglia, come dice anche il buon Giuseppe, di essere degli esploratori, io dico magari essere degli assetati di sapere, diciamo avere l'arsura, quindi non perdere mai il mordente, ecco la parola giusta. Questa slide rappresenta anche quella che è l'attività anche in Dixen, 30 anni di lavoro in tre anni. Magari non saranno tre anni, saranno cinque, saranno dieci, saranno quindici, ok, va benissimo, però sicuramente saranno notevolmente inferiori rispetto al lavoro tradizionale, in quanto con Dixen avremo la possibilità di andare in pensione giovane, soprattutto in salute direi, e soprattutto avere anche la possibilità di diciamo goderci o comunque il lato economico di ciò che abbiamo investito nella nostra rete, ossia aver costruito comunque una rete di collaboratori, un nostro business che ci permetta di vivere in maniera molto diciamo economicamente, stando bene economicamente, infatti come diceva qui la 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 presentazione. Comportati come un maratoneta, questa questa rappresentazione rappresenta molto anche quella che è l'adesione alla Dixen, ossia quando ognuno di noi aderisce alla Dixen si è tutti come sulla griglia di partenza, quindi si parti tutti dallo stesso livello. In maratoneta quando quando diciamo decide di partire per una gara ovviamente non si preoccupa molto della distanza tra l'inizio e la meta ma piano piano raggiunge la meta finale diciamo godendosi quello che è il paesaggio. Certo durante questo durante questo percorso ci saranno alcune ci sarà un periodo di crescita che per quanto riguarda noi le attività oppure il maratoneta dovrà affrontare però il successo è anche questo quindi vedere l'attività come scusate come un come un un paesaggio da godersi cioè nel senso come un viaggio da percorrere e quindi agendo in questo modo senza rendercene conto alla fine ci raggiungeremo la nostra meta se credi di potercela fare ce la puoi fare questa è una bellissima frase che mi piace tantissimo in quanto come voi ben sapete è la mente che comanda il corpo comunque che istruisce il corpo quindi se noi programmiamo la nostra la nostra mente la nostra testa con i giusti messaggi ovviamente il corpo reagisce di conseguenza quindi se noi abbiamo un atteggiamento positivo determinato e comunque predisposto a raggiungere i nostri obiettivi il nostro corpo quindi reagirà in maniera diversa quindi se noi invece reagiamo comunque ci autoprogrammiamo dicendo che ci poniamo barriere mentali o comunque smettiamo di imparare questo fa sì che il nostro corpo reagisca in maniera diversa quindi quello che dobbiamo fare nostro comunque l'imprinting che dobbiamo avere sia noi e soprattutto trasmettere anche ai nostri collaboratori a tutti coloro che incontriamo è a questo punto questo quindi non creare barriere mentali non smettere mai di imparare assolutamente bisogna a questo punto essere sempre avere voglia quindi di imparare investire soldi e tempo nella formazione a mio avviso che è molto importante cambiare le nostre cattive abitudini che possono essere di ogni tipo alimentari comportamentali o anche sportive per carità io non dico che tutti devono praticare uno sport però un'attività sportiva fatta anche in piccoli tempi quotidiani a lungo andare noterete dei notevoli vantaggi ve lo posso garantire e soprattutto credi sempre che puoi avere successo per avere successo bisogna uscire giustamente dalla propria zona di comfort io lo chiamo porto quindi uscire dal proprio porto quindi uscire dalle proprie acque in cui si sta sempre ed esplorare nuove zone quindi nuovi territori gli uccelli della stessa specie volano insieme anche questo è un concetto molto veritiero in quanto questo accade perché un uccello a suo agio scusate un uccello è a suo agio solo quando vola con i propri simili questo vale anche per gli esseri umani quindi se una persona sta sempre nello stesso ambiente o frequenta lo stesso tipo di ambiente o di persone a lungo andare diventerà ovviamente parte di quell'ambiente quindi l'unico modo per o comunque un modo per avere successo è circondarsi di persone che abbiano avuto successo oppure attingere da queste persone che abbiano che abbiano avuto successo in DXN ce ne sono tantissime spesso vengono anche intervistate io personalmente quando partecipo a questi quando scusate quando li ascolto a questi webinar spesso prendo carte penna perché ogni spunto può essere di vitale importanza e servire per la nostra attività quindi come dicevamo sempre come dicevamo anche prima avere sempre la voglia di imparare di non smettere mai di crescere e di continuare a migliorarsi non crearti non crearti delle barriere mentali pensando che non ce la puoi fare perché per n motivi perché sei troppo vecchio sei troppo giovane non sei istruito sei troppo povero in poche parole non mettere passatemi il termine non mettere il carro davanti ai vuoi di modo tale da porci noi automaticamente dei limiti hai già un lavoro non sei capace di imparare non sei capace a duplicarti eccetera 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 perché questo è è un modo per già cominciare a frenarsi investi il tuo tempo e i tuoi sforzi nella formazione quindi come dicevamo prima la vera formazione in DXN consiste nel non smettere mai di imparare assolutamente ripeto come dice sempre Giuseppe essere degli esploratori avere sempre la voglia di imparare di conoscere come dicono anch'io ripeto avere l'arsura di voler imparare e soprattutto di abbandonare le vecchie abitudini le tue cattive abitudini che possono essere innumerevoli fai ciò che ti riesce meglio DXN si prenderà cura di tutto il resto certo ovviamente in un gruppo come voi vedete qui c'è un gruppo di persone riunite che sta lavorando per un progetto ognuno di noi ognuno di noi in un gruppo quindi nella propria rete ha n collaboratori quindi ogni persona nel gruppo contribuisce alla crescita del proprio gruppo e quindi al proprio business quindi al business generale del gruppo quindi chi magari può metter ognuno di noi ha una propria caratteristica chi ha chi è espansivo chi ha comunque la creatività quindi ognuno di noi ci mette un pezzo del proprio per poter far crescere la propria attività nel migliore dei modi la DXN invece cosa penserà penserà a prendersi cura di tutto il resto quindi la parte burocratica la parte tra virgolette noiosa passatemi il termine ossia a livello di prodotti a livello di fatture a livello di spedizione merce e quant'altro punti bonus eccetera quindi il messaggio che l'azienda vuole passare è proprio questo quindi noi preoccupiamoci principalmente di crescere di far conoscere il nostro business con le nostre con le nostre caratteristiche migliori che abbiamo e l'azienda si preoccuperà di tutto il resto volevo lasciarvi uno dei miei pensieri per quanto riguarda la mia vita e anche in generale anche l'attività la persona che vedete è Alex Zanardi non so se lo conoscete Alex Zanardi è stato un famoso pilota di Formula 1 purtroppo durante una gara automobilistica ha avuto un tragico incidente e ha perso entrambe le gambe al di sopra del ginocchio vi racconto brevemente perché lo seco come persona vi racconto brevemente al suo risveglio il medico giustamente il primario cercava il modo e le parole più adatte per spiegargli giustamente la situazione allora le sue parole testualmente sono state proprio queste ossia inizialmente ha detto sono contento che qualcosa sia avanzato di me ma la mia preoccupazione più grande non è tanto aver perso le gambe ma come posso fare cioè come posso fare a continuare a effettuare i miei progetti nello stato in cui sono adesso quindi il messaggio che lui ha voluto dare è questo invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai quindi si preoccupava più del fatto di come poteva realizzare tutte le sue idee i progetti che aveva in testa attualmente lui adesso corre per una famosa casa automobilistica e partecipa anche alle parolimpiadi Alex Zanardi vi consiglio magari di seguirlo comunque se vi capita vedete qualcosa di lui trovate su internet qualcosa è veramente molto una persona secondo me degna di molto rispetto e stima vi lascio un'ultima frase beh come avete già capito è molto vicina alla mia persona e al mio modo di vivere e pensare e come potete vedere c'è una ragazza che sta indossando le fasce successivamente i guantoni da box questa vi confesso è una frase che mi diceva spesso una persona molto vicina a me e voglio lasciare a voi in quanto spero possa servirvi sia nella vita che nell'attività in quanto vi possa passare quello che ha passato a me ossia la vita è il 10% di ciò che ti accade e il 90% di come reagisci ossia quello che dicevamo prima per quanto riguarda la possibilità di superare gli ostacoli quindi non è tanto l'ostacolo in sé che ci deve preoccupare ma come noi lo percepiamo e quindi come noi lo vogliamo superare quindi è questa l'importanza quindi non è tanto il problema in sé che abbiamo di fronte ma come noi reagiamo a quel determinato ostacolo quindi è tutta una questione mentale comunque di come noi superiamo le difficoltà che ci aiutano come dicevo prima a a migliorarci a crescere il video formativo della cultura della DXN lo potete trovare anche sul canale di YouTube effettuato dal nostro fondatore presidente dottor Lim io ho terminato ringrazio Giuseppe per la disponibilità e la l'occasione fornitami ringrazio anche le rosa e colgo l'occasione a questo punto per farvi auguri a questo punto di buone feste a tutti quanti voi e ai vostri cari grazie Roberto grazie per l'aiuto che mi hai dato questa sera per il tuo contributo e anche per i concetti che hai passato che sicuramente sono assolutamente sicuro che sono arrivati infatti mi è piaciuto proprio l'ultimo messaggio e lo condivido appieno perché io ho fatto diciamo messaggio della mia vita di concentrarmi sulle cose che posso cambiare e non su quelle che non posso controllare perché se noi continuiamo a diciamo crogiolarci su un fatto che non potremo mai controllare perdiamo invece tutto il resto che in effetti l'uomo è nato per poter cambiare le cose per poter effettivamente modificare tantissimo e in questo probabilmente la disciplina dello sport l'autodisciplina la crescita personale certamente aiutano tantissimo bene io gli auguri di buone feste ve li faccio più avanti perché avrò altri impegni qui in webinar ringrazio ancora Roberto per la bellissima presentazione e per l'ottimo supporto grazie a voi vi do appuntamento va bene domani sera per diciamo per la nostra lotteria perché abbiamo una promozione a novembre quindi abbiamo una quarantina di qualificati e cinque di loro vinceranno dei premi fantastici e poi ci vediamo lunedì invece per la business opportunity meeting quindi la presentazione dell'opportunità della DXM grazie ancora Roberto ti auguro una buona serata auguro una buona serata a tutti gli spettatori e troverete questa registrazione di questo webinar domani nel nostro canale youtube grazie ancora buonanotte Roberto grazie buonanotte a voi ciao